Cartigliano Civica è una squadra che ha le idee ben chiare, fatta di persone che vivono il nostro paese, persone che hanno esperienza amministrativa, persone che per lavoro o volontariato vivono il paese. Io mi candido perché voglio continuare ad amministrare bene Cartigliano, voglio essere un sindaco presente, capace di risolvere i problemi del quotidiano. Cartigliano Civica insieme ai cittadini. Ho visto in questi cinque anni che non ero più sindaco che è giunto il momento che Cartigliano faccia un salto di qualità. Come? Assieme a voi, assieme alla mia squadra che ci proponiamo per una Cartigliano più dinamica. Tutto questo con cosa? Con il Cantiere delle Idee. Il Cantiere delle Idee è un progetto nato che il cittadino deve essere il centro dell'attenzione. Grazie a voi e alla vostra passione possiamo far arrivare Cartigliano ai massimi livelli.